Ma... Poni! Si! Vuoi essere come rich man! Rich man! Chi sei? Io mi chiamo Ibrahima Da dove vieni? Io vengo da Senegal Una cosa che ti piace? Io mi piace giocare a calcio Cosa che non ti piace? Ok Puoi fare da grande Una cosa che ti ricordi dal tuo paese? Io mi ricordo quando avevo sei anni e ho fatto una cosa incredibile alla mia madre e ricordi tantissimo Racconta un sogno che hai fatto Ho fatto un sogno che io sono troppo grosso da questo sogno e questo sogno non mi piace perché sono troppo troppo grosso grande bravo mio non mi piace 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 non mi piace